Madre Teresa, cosa vale più di tutto nella vita? Stare insieme, fare comunione, amarsi gli uni con gli altri, come Dio ama ognuno di noi. Dove c'è amore di Dio c'è pace, c'è gioia, c'è unità. Qual è stato lo scopo principale della sua vita? Fare tutto per Gesù. Può rivelare il segreto della sua felicità. Fin da quando ero giovane ho pregato, è il Signore che dà la pace del cuore. La pace è stare insieme e aiutarsi a vicenda, chi prega ha il cuore pieno di pace. Grazie.